Preside Conti, dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, ritornano gli spettacoli e gli eventi organizzati dall'Istituto Comprensivo Forio 1. Una grande e bella emozione al termine di un anno scolastico segnato dal ritorno alla normalità. Certamente siamo molto felici di essere qui, con tutto lo staff, l'organizzazione. Siamo onorati di aver invitato i sindaci, in quanto per noi l'isola è una. E quindi abbiamo dedicato ogni portone, ogni spazio a tutti i comuni. E da poco è andato via il sindaco di Lacco, siamo estremamente contenti. Ovviamente sempre grazie alla regia del nostro Gaetano Maschio. Ringrazio il nostro dirigente per questo assist. E' una grande emozione quella di ritornare in piazza, ritornare con i bambini della primaria, i giovanotti e le signorine, come sono solito chiamarli, per questo momento di grande festa. Innanzitutto una grande festa all'insegna dell'unione, la storia dei comuni che ci sta vedendo impegnati. Dalla leggenda delle campane di Santa Restituta alla Cameno, alla nascita dell'Andrezzata con Barano, il matrimonio di Vittoria Colonna Ischia, Garibaldi alle Terme di Casamicciola, primi albori del turismo per Serrara Fontana Sant'Angelo e poi la leggenda degli scogli innamorati con Forio. I nostri ragazzi si sono impegnati, sono tutti felicissimi, stiamo veramente partecipando a una grande festa di popolo. Ringraziamo quindi la scuola di Forio, ringraziamo la preside perché ancora una volta ci ha riportati in piazza. Grazie alla benegazione e al trasporto di tutti, ancora oggi si può dire che la scuola è un momento per stare tutti insieme, tra storia, tradizioni e perché no, anche spettacolo e divertimento.